Ciao ragazzi, ho appena fatto un nuovo progetto di Contour di Shuttle Express per l'Arcadian Live. Può essere downloadato dal link nella descrizione. Buongiorno! Il fattore di zoom può essere migliorato usando il gioco. E il Shuttle può essere usato per vedere un frame specifico. E il botone può essere usato per vedere un attimo. Il botone di zwittoria al tul safferenza per scenare al tasto. Il botone di zwittoria al tul di disolvera. Buttons 2 e 4 are used to move cursor between snap points and I'll see you next time.